Allargate la vostra preghiera. 5 dicembre 1974. Figli miei diletti, sia pace a voi e siate benedetti per il dono d'amore che mi state presentando. Io vi guardo, vi amo e vi ricolmo di grazie. Voi non vedete nulla, è vero, ma vi fidate di me ed io vi assicuro che abbellisco la vostra anima sempre di più, ogni volta che con amore mi pregate. È un aumento di grazia e di virtù che vi ottengo. Quella fede che già possedete, viene aumentata e vi aiuta a portare la croce della vita, quella che vi farà degni di ricompensa eterna. Chi non ha fede non prega, manca perciò di forza e di fiducia. Voi pregate perché credete ed amate. Anch'io ho fiducia in voi, figli miei, e vi assicuro che mi servo di tutto ciò che mi date per fare del bene a tutti. Per ciò che mi date, io benedico ed aiuto i vostri familiari, parenti, amici e tutti coloro che vi stanno a cuore e che mi raccomandate. Non andranno perdute quelle persone che mi affidate. Perciò allargate sempre più la cerchia delle vostre raccomandazioni. Limitare le vostre richieste è limitare la fiducia nella mia potenza. Sono la tesoriera delle grazie e sono la corredentrice del genere umano. Vedete quante persone gemono nel mondo perché sofferenti nel corpo e nello spirito. Voi le potete aiutare. Non chiudete il vostro cuore e non rimpicciolite le vostre intenzioni. Guardate il mondo e allargate la vostra preghiera, perché essa diventi come due braccia di protezione estese verso l'umanità. Poi guardate le anime. Figli miei, che grande pena vederle rifiutare la salvezza. I sacramenti trascurati, la parola di Dio rifiutata, le virtù calpestate. Persino i miei eletti, coloro che io scelgo perché servano il Signore all'altare e nelle anime, sciupano il meraviglioso dono della vocazione. Se poi la gioventù si perde, è molte volte perché i giovani sono come pecore senza pastore. Così i genitori si allontanano da Dio perché non vogliono compiere la sua volontà, e i figli si allontanano dalle famiglie. È una rovina generale. Voi pregate ed io esercito la mia missione di corredentrice. Mi date una mano, mentre io vado per il mondo in cerca di anime da salvare. La vostra preghiera è fatta di amore, di fede, di umiltà e di adorazione, perciò diventa un atto di carità che può divenire eroico se, dimenticando voi stessi, vi prodigate per gli altri e se alla preghiera unite il sacrificio. Quando nella Santa Messa voi vi unite a me, si fondono i nostri cuori in un'unica speranza, e la nostra offerta diventa quella vera offerta che salva perché è compiuta in Gesù Salvatore, e il sacrificio diventa immolazione, diventa eroismo. Continuate dunque così. Io sono contenta di voi. Vi benedico ancora e vi amo.